Nuova protesta in vista per gli avvocati leccesi, un pacchetto di astensione di tre settimane fino a dicembre già concordato la scorsa primavera al termine dello sciopero ad oltranza messo in atto con la prima trancia a scattare già dal prossimo 22 settembre se confermata nel corso dell'assemblea straordinaria prevista per i prossimi giorni. Sul tavolo ancora una volta i problemi inerenti, la riforma della giustizia. Iniziative che appaiono per certi versi propagandistiche tipo quella della riduzione della durata dei termini feriali e soprattutto non ci paiono adeguate tutte le misure ipotizzate che fanno parte del decreto legge in corso di pubblicazione e dei disegni di legge sui quali però può aprirsi una interlocuzione più ampia anche per migliorare e correggere eventuali strutture. Intanto l'imminente ripresa dell'attività forense si annuncia con non pochi disagi a causa dei problemi di natura logistica ancora irrisolti. Avevamo evidenziato dei problemi legati proprio al fatto che in alcuni giorni della settimana vi fosse un numero eccessivo di udienze in relazione al numero delle aule disponibili e questo ha creato problemi molto seri soprattutto nel periodo in cui c'era un forte caldo, i colleghi hanno avuto alcuni dei malori, delle colleghe in stato interessante si sono sentite male perché chiaramente in aule piuttosto piccole nelle quali c'era moltissima affluenza di avvocati e di parti e questi problemi si possono verificare.